Ciao raga, ciao, come va? Non mi interessa assolutamente nulla. Ok, benvenuti a Radio Maranza Podcast, l'unico podcast che viene fatto in piedi. Perché lo sto registrando in piedi? Perché non ho una sedia, me l'hanno rubata in Maranza. Tra l'altro, tra l'altro, parlando di cose che non ho, sapete cosa che mi potrebbe servire? Una dignità, quindi se l'avete, se vi avanza, anche se al giorno d'oggi è molto difficile da trovare. Comunque è faticoso fare i podcast in piedi, è faticosissimo, perché dopo un po' mi viene il fiatone. Cioè mi sembra di essere tipo quando inizi a scappare da Maranza fortissimo. Tipo, non lo so, tu stai camminando per andare all'esse lunga e ti incontra un gruppone di Maranza, iniziano a pull a parte, allora tu inizi a correre fortissimo, dopo un po' hai il fiatone, cali per terra e svieni. È quello che potrebbe succedere anche a me durante questo podcast, però ragazzi, fino a che non trovo una sedia, non posso farci niente. Cioè fino a che non trovo una sedia io devo fare tutto in piedi. Studierò in piedi, mi masturberò in piedi, soprattutto mi masturberò in piedi perché poi c'è masturbarmi ciò che faccio nel 90% della mia giornata, quindi farlo continuamente in piedi potete capire che non è il massimo. E registrerò questi podcast in piedi. Tra l'altro, cosa che vi volevo dire, cosa importantissima, allora questo podcast ed ora in avanti diventerà il podcast che ufficialmente sostituirà Muschio Selvaggio. Perché, non so se avete notato, ma Muschio Selvaggio ha smesso di pubblicare. E praticamente l'altro giorno, tipo 63 giorni fa, mi ha chiamato il mio amico Fedez. Tipo mi chiama, io vedo la chiamata, dico ma chi è che rompe i coglioni mentre mi sta masturbando. Lancio il telefono perché è tipo uno scatto d'ira. Poi mi alzo, vado a riprendere il telefono e vedo la chiamata, dico ma vediamo chi è che mi sta chiamando. Era Fedez. Allora rispondo e mi fa, uè Pietro, io uè Fedez. E lui, oh ciao, lo sai che ho comprato un Lambo? E io dico, sì Fedez, lo so che ho comprato un Lamborghini, però non è che me lo devi flexare ogni volta. No, perché ogni volta me lo flexa. Cioè, mi deve dire qualsiasi cosa, la prima cosa che mi dice è, lo sai che ho comprato un Lambo? Infatti è quello che è successo, perché poi mi ha detto, sì scusa Fra, lo sai che mi viene da flexare queste cose. Io ho detto, vabbè tranquillo, tanto ti ci hanno anche fatto pipì sopra. E lui mi fa, no bro, non farmi ci pensare, l'ho appena superata. Io dico, no scusa hai ragione, poi si è messo a piangere. Poi mi sono messo a piangere pure io, poi ci siamo messi a piangere tutti. Fino a che eravamo entrambi in difficoltà, però era una videochiamata su Whatsapp. E quindi a un certo punto Fedez ha detto, vabbè sai che faccio? Aggiungo Luis così risolve la situazione. Luis è entrato, ha visto che piangevamo tutti, ha detto, ma perché piangete così di qua di là? E vabbè dopo un po', praticamente Luis mi dice il motivo per cui Fedez mi aveva chiamato, che non era flexare la Lambo, anche se lo fa sempre. Mi dice, guarda bro, noi abbiamo deciso di chiudere Muschio Selvaggio, perché io devo andare di più in palestra, e Fedez invece deve andare di più con Lambo. Così Fedez mi ha riflessato il fatto di avere il Lambo. E però mi hanno detto, però abbiamo bisogno di un podcast che sia all'altezza, se non superiore. Se non superiore, ha detto proprio così. Due volte l'hanno detto. Forse non super superiore. A Muschio Selvaggio. Mi hanno detto, guarda, secondo noi il tuo podcast è all'altezza, se non super superiore di Muschio Selvaggio. E quindi abbiamo bisogno di qualcuno che rimpiazzi Muschio Selvaggio per fare felici gli italiani, così oltre a masturbarsi possano ascoltare un podcast che sia super superiore a Muschio Selvaggio. E loro poi mi hanno detto, ma guarda, te la senti di rimpiazzare il nostro podcast? Mi ha detto, ma ci penso un attimo. Dopo 20 secondi tipo sento un rumore fortissimo, era Fedez che era andato nel Lambo. Era andato nel Lambo e stava sgassando senza motivo. In videochiamata su WhatsApp. Ho detto, bro, ma cosa stai facendo? Ma basta, ma la smetti di flexare il Lambo. Lui ha detto, sì, è il più forte di me. E poi si è rimesso a piante. E niente, ha riniziatto il loop. E poi in videochiamata, dato che piangevamo tutti e tre a un certo punto, è entrato pure Martin Nasalla, perché ci voleva qualcuno che risolvesse la situazione. E niente, Martin Salla ha detto, ma io che ci faccio qua, è uscito la videochiamata. E quindi abbiamo continuato a piangere, perché Martin Salla non ci ha aiutato. Comunque, comunque, quindi, alla fine ho deciso di accettare questo incarico, ho deciso di essere il sostituto ufficiale di Muschio Selvaggio, anche se non ho un Lambo. Però, prima cosa, gli ospiti, cioè perché Muschio Selvaggio, comunque, intanto sono in tre a parlare. E qui sono da solo, quindi parlerò un terzo, forse anche meno. Cioè, dovete perdonarmi, capite che loro sono tre, io sono da solo, non ho nemmeno la sedia, non ho il Muschio dietro, cioè non c'è nulla, questa è una camera di una prigione. Mi hanno arrestato ieri l'altro perché ho vandalizzato il Lambo di Fedez, sì, io ho vandalizzato la Lamborghini, gli ho fatto la pipì sopra e non ne potevo più. Ogni volta me la flexava e io ho detto, basta, sai che c'è, ora ci faccio la pipì sopra. E comunque, non ci sono gli ospiti in questo podcast a differenza di Muschio Selvaggio, perché? Perché nessuno vuole venire qua, cioè ho provato a chiedere anche a mia nonna, mia nonna ha detto, no, guarda, devo fare il bucato. Ho provato a chiedere anche a mia bisnonna, cioè sono andato al cimitero con i fiori e ho detto, eh, ma non c'è, non è che ti va... E basta, queste sono tutte le persone che conosco e che potevo invitare come ospite e mi hanno dato buca. Però, cioè conosco pure Fedez, però non avrebbe senso, cioè lui mi ha chiesto di sostituire Muschio Selvaggio e poi che fai, lo inviti come ospite? Magari sì, magari sì. Quindi questo podcast non avrà ospiti e soprattutto verrà ascoltato da molti meno persone, perché in realtà non lo ascolta nessuno. E forse è meglio, perché se... Considerando le cose che dico è meglio che non ci sia nessun malato che si metta ad ascoltarle, no? Però questa è anche una fonte di libertà, se ci pensate bene, perché con il fatto che viene ascoltato meno persone, io sono più libero e meno pressato dalla stampa, da Muschio Selvaggio, da tutto quanto, dalle responsabilità. E posso dire quello che voglio, cioè posso dire, guarda, ieri mi sono masturbato, guarda, due minuti fa mi sono masturbato, guarda, una volta finito questo podcast mi masturberò, posso dire quello che voglio. Quindi dirò masturbato, cioè tipo, se voglio dire una cosa che voglio, non so, per esempio, masturbato, posso dirlo, no? Ma più che altro, una cosa che ho notato di fare i podcast è veramente divertente ed è molto piacevole perché praticamente io dico così tante minchiate nella vita che ormai la gente ha smesso di ascoltarmi, anche mia nonna non mi ascolta più. Cioè ho scoperto, all'inizio pensavo che mia nonna non mi sentisse bene perché, non so, magari per l'età avesse un po' di problemi di udito quindi non riuscisse a sentirmi bene, invece l'altro giorno ho scoperto che mia nonna non mi sente bene perché quando mi avvicino io per dirgli qualcosa lei si mette i tappi nelle orecchie. Cioè ho scoperto che aveva i tappi nelle orecchie io all'inizio pensavo pensa un po', pensavo fosse Amplifon quindi pensavo che mettesse qualcosa nelle orecchie per potermi ascoltare meglio ed era proprio il contrario cioè stava mettendo i tappi nelle orecchie per potermi non ascoltare ma non l'abbiasimo, non l'abbiasimo e quindi dato che dicendo così tante cavolate nella vita tutti hanno smesso di ascoltarmi e tutti ormai hanno un paio di tappi nelle tasche nel caso io mi avvicinassi ho deciso di fare questo podcast in cui posso dire una marea di minchiate durante il podcast così poi magari evito di dirle nella vita reale, no? Oppure mi alleno mi alleno a dire minchiate e poi ne dico ancora di più nella vita reale. Entrambe le cose possono essere. In più una cosa bellissima di fare i podcast è che non devo editare niente io metto qui col telefono in piedi senza sedia così sono triste perché mi ricordo che malanza me l'hanno rubata e inizio a dire cosa a caso e poi quando mi voglio riposare un secondo metto il video in pausa però cosa farò in questo podcast oltre a masturbarmi perché io in questo momento mi sto masturbando ma voi non lo state vedendo di tutto farò di tutto tipo per esempio vi ricordate in segreto quel sito internet che si usava nel 2002 adesso ho aperto in segreto e leggerò un po' di segreti di persone a caso perché è divertentissimo tornare nel 2002 allora ragazza di 15 anni sono il tipo di persona che si ferma improvvisamente in mezzo alla strada per fare una foto al cielo o alla luna ne vado fiera questo è il segreto di questa ragazza di 15 anni che ha deciso di aprire il sito in segreto che non si usa più dal 2002 e di scrivere questa cosa 11 ore fa non l'ha scritta nel 2002 l'ha scritta 11 ore fa lo capite? cioè lo capite? però devo dire che anche io mi ritrovo abbastanza cioè non perché mi fermo in mezzo alla strada per fare la foto al cielo o alla luna ma perché talvolta talvolta mi fermo all'improvviso in mezzo alla strada per mettermi un dito nel sederino